E' gol, è open, è open, è open Comunque gizmo nuova main allora Ok, siamo contro il mate di prima comunque Contro il mio ex compagno di avventura Questo qui è la missa vero? C'è c'è là, tocchiamo un attimino al mid Il mio mate dove c***a è dietro Lasciamo questo primo mate che dovrebbe andare, clearare, buono Questo qui la misserà Invece no, aspettiamo i rimbalzi, ho missato un boost Brutto tiro, o la buttavo a destra o provo a tirare in porta Clicchiamo questo qui Questo qui ci supera non è un problema Giriamoci qui dietro al nostro mate che dovrebbe challengeare perché non ci sta andando Oh shit Gira team Possiamo la tirava alta, buono Riveniamo mid, magari riesce a passare Ma che cos'è questa cosa? Hai mid? Non riesce Aspettiamo il tocco di questo Un reset Mi viene anche a bumpare addirittura Altro Gol, godo Challenge a mida ultimo uomo Stupido Buono Ancora Alla Che prendiamo il boost Che ansia Questi qui dietro Ok Come rimbalza? Così Perfetto Ho provato a fake Carma, nulla Buono Qui dovrei riuscire a challengeare subito Ho fatto malissimo Ho challengeato da ultimo uomo Esattamente come ha fatto lui Buono Ripeniamo mid Sicuramente riesce a passarmela Double, nulla Dovresti avercela mate Unlucky Boost mio Godo E si gode Proviamo anche a demolirlo Nulla Quello lì è imprendibile Proviamo subito Va benissimo Tanto c'è il mio mate Miss Unlucky Occhio di subito Ci vado io Ci sei sul serio Andato subito In questa maniera qua Da braindead Clicca Peccato Sarebbe stato cosa Se l'avessi agganciata Non ho boost Mate Dovesse avercela Subito Ma Cosa? Buono Gol Ok Subito Oh mio dio Perché ci sei andato così mate Io non ho boost Quindi sicuramente mi supererà Proviamo almeno a bumparlo Un pochino l'abbiamo bumpato Buono questo tocco Ok Aspettiamo il suo tocco Tempo Eh È la regola numero uno ragazzi Io non ho boost Io non ho boost Ok Mate Buono Prendiamo il boost qui dietro Lo seguiamo un attimino Il più velocemente possibile È gol È open È open È open Basti Va benissimo Ok Ecco perché ho più o meno perso il controllo Quindi ci sta Boost Che challenge Ignorantissimo Bravo 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 Aspettiamo il tiro Oh shit Oh shit Buono Siamo riusciti ad avercela È gol È open È open Bravo GG GG E si sale a 1933 Normale Non puoi scegliere tu che torneo fare Devi arrivarci Vincendo più partite possibili Non per forza vincendo l'intero torneo Riusciamo ad arrivare a mille ragazzi Allora Vi dico questo ragazzi Se arriviamo a mille iscritti Ok Se arriviamo a mille iscritti E 2500 follower Su Instagram Oggi si spacchetta un po' Oggi si spacchetta un po' Che culo Che ha questo qui Non ha neanche idea Di che culo che ha avuto Mania Zero Non ne ha Mi raccomando ragazzi Sia il follow Sia l'iscrizione su YouTube Che il follow su Instagram Molto molto importanti Se arriviamo a mille iscritti Su YouTube E a 2500 su Instagram Spacchettiamo Apriamo dei pacchetti Molto importante ragazzi Perché non l'hai bampato? Perché non l'hai bampato Che gli eri dietro? Cioè io Vedi Io Ho sempre paura Perché se aspetto Loro aspettano Non ci vanno sulla palla Se io ci vado Ci vanno anche loro Nel mio stesso momento Quindi va a finire Che prendiamo sempre gol Per se state qua Perché non ci vanno 2 mid Muori Dai muoviti Sarebbe stato gol questo Buono Aspettiamo il suo tocchettino Di merda Mid E gol Che gol che ho fatto Sono fortissimo Buono Dobbiamo andare subito Ping proprio Con la Gizmo Gizmo nuova main Ragazzi Buono Bampiamo questo qui Lo sento che qui vicino a me Bravo Banghi Riesce a metterla anche in mezzo Ma che botte Tira la Gizmo Porca troia Cosa qui sarebbe entrata Bel bump di questo Dai Voglio le coglioni Madonna Stavo strizzando il culo Di una vostra paura Mi va un passo Ok Ci facciamo superare Lo demoliamo Nulla Mate Ti far molto meglio Potevi andarci di lato Challengiare Ok Occhio che tira subito Questo sgravato Tira Io non ho boost Quindi andiamo per forza Di 50 Ok Un po' rischioso Questo challenge Anche il mio Ma va benissimo Ci piacciono a noi I challenge Quegli aggressivi Come Come ho fatto a non prendo Per quale motivo Ok Bel passaggio Bel tiro anche Lo so già Peccato Per pochissimo Bampalo Bampalo Che poi È open E segno Dio Oh mio dio Si fa superare Oh mio dio Ok Fake 50 con questo No problem Mate Dovresti Sì Buonanotte Buonanotte Devono A te Tempo Tempo La controlli Prendi il boost Superi questo Ed è gol Bravo 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 Buono Tempo 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 Questo qui dovrei riuscire a challenge Subito Ok No problem C'è il mio mate Bang Va bene Volendo qui avevi tempo Mate Per fare qualsiasi cosa Madonna che schifo Non sono davvero Stato in grado Di fliccare Ok Dovresti avere un po' di tempo Può andare anche un 50 Bravissimo Devo grattare Devono quello lì Poteva demolirmi Senza problemi Stavo giocando Con una mano Flip reset Abbastanza bruttino Perché non ha più Tanto boost E non potrebbe seguirla Va bene Lo facciamo fliccare Ok L'abbiamo bampato Il mio mate Ravrà a vercelo Superiamo questo Questo qui L'altro avversario È abbastanza distante Dobbiamo tirare È quasi entrata Ragazzi Giusto Qui ci devo andare Io visto che ho boost Visto che il mio mate Non ce l'ha Buono mate Si riesce a challenge Subitissimo Se no vado a esploderlo In volo Madonna che Non posso dirlo Questo twitch E si va Verso il 1940 40